Innanzitutto c'è un dato, che la prima volta in Austria dal dopoguerra popolari e socialdemocratici non esistono più. E questo è un dato incontroventibile ed è un terremoto politico. Dopo che qualcuno oggi voglia far credere in Europa e anche nel nostro paese che i voti espressi in Austria ieri a Offer sono voti illegittimi, sono voti da disprezzare perché vengono disprezzati, questo qui è una dimostrazione di immaturità politica, perché il voto che è stato espresso ieri in Austria dal 50% degli elettori, per cui non potete dirmi che gli austriaci per il 50% ieri sono dei xenofobi e dei razzisti. 49.7, sì. Quasi 50%. Sì, 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 certo, per amor di precisione. Per cui quasi la metà degli elettori austriaci viene classificata. Non è così. Questo è un chiaro e incontrovertibile messaggio all'Europa che l'Europa non sta dando i messaggi che la gente vuole sentire, vuole sentirsi rassicurata. L'Europa non sta rassicurando assolutamente nessuno. E questo è quello che abbiamo letto oggi sui giornali, lo abbiamo sentito nei commenti. Purtroppo è una grande immaturità in Europa di chi vorrebbe rafforzare questa visione dell'Europa. E lo dico da euroscettico. È un'immaturità politica. Questo è un fallimento. L'Europa è un fallimento. Le immagini che abbiamo visto prima, che stanno sbaraccando il campo profughi, è un'immagine fallimentare di questa Europa. Povera gente che dovrebbe avere un futuro, dovrebbe essere accolta probabilmente con altre condizioni, qualora se le volessero dare. Non siete capaci, non sono capaci di creare queste condizioni. Questo è il fallimento. E il fallimento dove arriva? Il fallimento arriva nell'espressione del voto che abbiamo avuto ieri in Austria. Ed è solo l'inizio.